Il questore di Salerno Giancarlo Conticchio è in visita nel Vallo di Diano per conoscere meglio il territorio e per far sentire, come spiega una nota ufficiale della questura, la presenza della Polizia di Stato in quelle realtà territoriali più lontane e periferiche. Il questore Conticchio si è recato nei comuni di Teggiano e Padula. A Teggiano è stato accolto dal sindaco di Candia, con il quale, spiega ancora la nota della questura, si è intrattenuto sulle problematiche della sicurezza, in un'ottica di partecipazione condivisa e di prevenzione dei reati. Altra tappa a Padula. Qui, dopo l'incontro con la vice sindaco Caterina Di Biango, il questore ha visitato la Casa Museo di Gio Petrosino, con la guida straordinaria del pronipote del detective italo-americano Nino Melito Petrosino. Nel corso dell'incontro è stata rimarcata la necessità di aumentare le forze dell'ordine nel territorio, magari istituendo un commissariato della Polizia di Stato nel Vallo di Diano, come già più volte richiesto anche dalle amministrazioni comunali del comprensorio. Il questore Conticchio, che è rimasto molto entusiasta, ha promesso di ritornare in occasione dell'inaugurazione della sede dell'Associazione nel mese di dicembre. Grazie.